Una cosa è farlo a vent'anni. Devo dire che il comandante ha una lunga esperienza in questo comune, lo dico per le persone che non lo conoscono, i comuni convenzionali. Abbiamo scelto di armare la polizia, abbiamo scelto di fare una unità cinofila, perché il tema della droga è un tema forte in tutte le città del mondo, non pensiamo certo di risolverlo noi a Venezia, però certamente milioni di turisti, sono anche milioni purtroppo in altri casi di consumatori, per cui quando c'è la domanda, poi c'è anche l'offerta. Noi su questo abbiamo lavorato duramente proprio per spiegare bene che queste cose non possono essere lasciate all'assismo totale. È evidente che nessuno pensa di stroncare il fenomeno della droga così, però è chiaro che se noi agiamo sul territorio, sulla strada, sui bar, sui locali e così via, è evidente che diamo una grossa mano alle forze dopo dell'ordine preposte all'anticrimine, per trovare i trafficanti internazionali, perché il messaggio che deve avere i giovani è che la droga fa male. A Venezia venne tutto accentuato. Noi pensiamo che sia un ruolo di questa città, proprio perché se sentite i rumori sono tutti ovattati, perché se uno parla si sente facilmente, provate ad ascoltare questa città, è incredibile, per cui anche i problemi vengono enfatizzati. Bene, risolviamoli insieme. Grazie. Grazie.